Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Molte nuvole sull'Italia con piogge nel weekend in arrivo. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 17 aprile. Nuvolosità diffusa al mattino su tutta la penisola con piogge sparse sulle regioni del sud, più intense su Sicilia e Sardegna, asciutto altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni meridionali di debole o moderata intensità, asciutto ma con cieli nuvolosi al centro nord. In serata è notata poche variazioni con piogge e specie su Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, ma localmente anche su Lazio e Veneto. Temperature minime in generale rialzo, massime in aumento al nord e in lieve calo al centro sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.